Solo due ciò conoscemo la storia perché tu e io la scriviamo e non permettere che nessuno ti venga a dire altre cose perché ancora existe la gente che odia a chi tocca la gloria solo tu e io acceptiamo il viaggio da che ciò conoscemo che venga il mondo a juzgar al che ama a chi necessitava quando ti voglio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.